Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui in compagnia di Foodgamer qui abbiamo il nostro caro youtuber Deloro Gaming che vi dico di iscrivervi al suo canale oggi abbiamo deciso di fare un po' di passaggi perché non sapevamo cosa fare e quindi abbiamo deciso di fare questo video adesso per passare anche un po' il tempo vi anticipiamo di lasciare mi piace e iscrivervi al nostro canale soprattutto quello di Foodgamer no stavo scherzando anche quello di Deloro Gaming dai forza passaggi passaggi poi facciamo anche i due palleggi olè Romanto Romanto olè 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 guardate scherzando un altro non c'è riuscito il nostro soldeo vieni che ora ci beva di nuovo olè stiamo cazzeggiando di brutto lo so che lo so che un po' non si vede però vi dovete accontentare perché qui ci prende anche il sole e quindi ragazzi vado di rovesciata mamma mia che gol ronando 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 ragazzi ecco qua ecco qual è il modo giusto per cazzeggiare eccolo qual è il modo giusto qui mi raccomando qui mi raccomando lasciate tanti like e scrivere una cosa che vi vorrò voglio dire iscrivetevi al mio canale che te lo ti dico deloro Gaming in particolare e poi un'altra cosa da tenere in considerazione è di lasciare i commenti vedi che non si vede vabbè sai no di lasciare i commenti in particolare ecco come è capito come un linguino come un'altra cosa Ergannic. 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 Tre minuti. Siamo a tre minuti, e ancora c'è molto da fare. ecco di nuovo la bicicletta un attimo che vado a prendere la bicicletta così pedaliamo così pedaliamo e andiamo lontani ecco la boom atomica non si vede un kaiser oddio oddio ragazzi mamma mia come si cazzeggia ultimamente ha fatto il video su clash noi ricordiamo che è in arena 1 mentre io sono in arena 2 non è bello ragazzi ah ragazzi scusate volevo dire arena 10 9 9 vabbè 9 mentre io ho fatto il record in 10 perché sono in arena 2 anche se prima era in arena 11 ovviamente sto scherzando ragazzi prima apprezzo il suo account eh perché ho cambiato il tempo perché quello vi devo dire la verità è calito nel bagno per non dire proprio per non dire la in modo scorretto ma è il rigore qual è il rigore? sei tu un coglione non è il rigore no ragazzi eh qui come vi ho detto si cazzeggia comunque io vi consiglio di guardare il video più bello che ha fatto dell'organizzazione ma anche il grande sono due uno è la capriola e poi è l'altro che è anche un bello figlio sugli spinner perché dovete guardare i suoi spigli sono spettacolari quindi vi consiglio di guardare queste due lì e poi un altro in particolare non me ne ricordo tutta me le può dire a lui che lo ha fatto scusa io ho detto di guardare di guardarvi la capriola e poi in particolare sugli spinner sugli spinner questo mi sta parlando nell'organizzazione non si fa vedere no l'organizzazione non si fa vedere eccomi ecco guardate e lui ha fatto ha fatto una papera con i NAVAS perché non non sapeva parare quindi ha fatto una papera ma non è bene facendo la carriera al giocatore a certi portieri non è vero ragazzi non sapeva parlare quindi ragazzi rendetevi conto di che portieri abbiamo non è vero ragazzi passa ora prima di di chiudere quasi questo video allora saluto in particolare un nostro caro amico che vi dico che ha pallone fortissimo si chiama Marco Pecora poi saluto Mario il fratello che non è forte anzi vi devo dire che Marco è forse da partire in volta poi saluto e poi saluto Cristian Manzuta e Lorenzo Solia Gian Domenico Grotti Giacomo Maiva e tutti gli altri e vi consiglio di seguire questo video che è molto bello quindi dopo aver salutato gli iscritti ora non ve li ricordo tutti però invece ora vi ho detto quelli principali questo video ora ve lo vediamo questo video sta quasi per concludersi quindi i minuti sono che siamo registrati 9 minuti mi sa di scuola 10 minuti 10 minuti un altro minuto abbiamo dopodiché chiudiamo perché ve lo ho detto ho già salutato gli iscritti quindi non ce li sento non ce li sento la parte no ha salutato quelli principali cioè 4 città quelli altri comunque li ringrazio tutti perché non me li ricordo tutti ora qui abbiamo il famosissimo Lelore Gaming che hai scritti come FabiJ stavo scherzando stavo scherzando come ve l'ho detto qui si cazzeggia e quindi ragazzi questo video si conclude qui comunque stavo scherzando però si stavo scherzando come ve l'ho detto prima che si trattava di cazzeggio quindi per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo ciao ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi